Ciao amici di Goricia TV, eccoci qua, siamo al 135esima sfilata di carnevale di Mo Falcone e le premiazioni nel finale, comunque devo dire che prima va la prima parte e poi mancheremo la seconda parte la prossima settimana, la terza, perché era un carnevale lunghissimo, un pieno trepitoso e adesso sentiremo Luis che ci fa la pubblicità, sentiamolo il grande Luis. Grazie a Goricia TV lo potremo vedere in ben tre canali, abbiamo su Videotelecania giovedì alle 19.30, su Canale 6 sempre giovedì ma alle ore 21 e su Teleforvenone domenica alle 21.40, quindi mi raccomando siete numerosi, guardate tutti questi programmi sul canale che sarà sicuramente meraviglioso. Grazie Luis, grande presentatore di quest'anno e anche dell'altro, comunque lì è la nuova reggia della seriffa, la sindaca di Mo Falcone e la grande Anna Cisin che praticamente si sono messe di soli, sentiamo la sicurità. Io lascio sempre la parola a chi lascia la parola, però dillo perché ho visto che c'è una marea di persone con i giubini gialli. Sì, sono tutti enti antigenio rischio elevato, specializzati in eventi e manifestazioni. Comunque ho visto un grande servizio d'ordine, permette di grande spessore diciamo. Sì, siamo venuti a denti, tutti di comunicazione della radio, con tutti i tipi pronti a fare questa stessa esigenza. Sono tutti specializzati. Benissimo, questa è una cosa molto importante. Allora, come ti chiami? Marco Leon. Hai la ditta? Alexa. E lui? E lui è il nostro direttore tecnico dell'anticendio che vi presento. Eccolo qua. Lei è pronta per questa grande sicurezza? Certamente, siamo sempre pronti noi per questi eventi. E ho visto, i gile gialli. I gile gialli, sì, ma non siamo quelli della protesta noi. No, quelli della sicurezza. Esatto. Benissimo, cosa vogliamo dire al pubblico? Speriamo che tutta questa manifestazione non succeda niente, noi siamo qui per questo. e speriamo di divertirsi un po' tutti e stemperare questo clima un po' che ci hanno messo delle paure che non ci sono. Esatto, grazie mille e buon lavoro. Grazie e buona giornata. Alle comunicazioni. Cosa vogliamo dire? Bellissima giornata, tutto tranquillo per il momento. Speriamo che vada avanti così. Benissimo, a lei si chiama? Franco Valenti. Benissimo, eccolo là. Franco Valenti, buon lavoro. Grazie. Bene, salutiamo, eccoli qua. Eh, due personaggi. Fatto. L'uomo ragno. E quel altro, purtroppo non lo so, perché io un po' che ci guardo, salutiamo, salutiamo un amico. E devo dire, dobbiamo, ecco, guardate questo gioiello, questo gioiella, gioiello. Guardate un po'. Ok, vediamo un po'. Altissima. Vai vicino al gioiello. Eccola qua. Eccola qua. Perfetto, dagli un bacio. Vieni, vieni qua. Eccoli qua. Vai, guardate un po'. E prende la po' felice. Vai. Ciao. 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 Due, tre. Impressionante. Salutiamo anche questa signora, il papà e la mamma. Grande, Roberto Antonelli, con la sua dolcezza. E se lo sembra. Loro tanto amore e pochi soldi. E ti invece? Mi so' il canno. Cangro, loro, perfetti. Perfetto. Fai un bel saluto. Ciao. Ciao, Danolas. Dunque abbiamo notato che hai un bel coltello come la piccola che è vicino di te. Bellissima, vero? Questa cassa. Esatto. Come ti chiami? Di anno. Di che signor sei? Leone. Leone. Non so, eh. Leone, vergine, guarda. Sono tosta. Bene. Cosa vogliamo dire? Ciao, da un buon palcone, buon mattedì grasso. Volete mandare anche un bel bacio o no? Sì. Perfetto. E ci hanno dato un bacio potentissimo. Bene. Allora, la partenza. Ecco, adesso però vi dico subito in mezzamento. Intanto, un grande saluto alla sicurezza. Praticamente quest'anno c'erano i gilet gialli. Salutiamo ogni anno, lo vediamo, il vigile. Adesso qua c'è la banda di Mofalcone. Salutiamo la sicurezza, che è veramente importante. Veramente quest'anno c'erano i gilet gialli e tutto è andato a posto. Un pienone stratosferico. Sentiamo la banda. Salutiamo la vigilezza, salutiamo il pronto intervento perché è veramente importante. Adesso sta arrivando il cavale bianco e la carrozza. C'è, come si chiama, il notaio, Bertagliol. Eccolo là, Anzoletto e la Nina Moric quest'anno. Adesso vediamo di riuscire a fare il saluto, ma dopo c'è stato veramente un po' dura. Va bene, comunque non importa. Nina Moric, madrina del carnevale di Mofalcone. Mi cerco di andare vicino. Si gira. Ecco, vedi. E Carlo mi ha detto topo, vediamo topo. Va bene, ma non importa, dai. Non ci importa. Va bene, andiamo, adesso andiamo alla... al raduno, lì al palco. Daniele Paroni. Non si sentiva, era troppo forte, non sentiva, neanche prima non sentiva. Bene, andiamo allora con le fan di Anzoletto. che faccio tremare Mofalcone, che faccio tremare la piazza. Anzoletto! Anzoletto! Intanto le spose chiamano Sion Manzoletto che sta per arrivare. Ed ecco Sion Manzoletto, la sposa e la nostra Jasmine, accompagnati dal nostro notaio e dall'ospite d'onore di questa manifestazione. Nina Morris, signori e signori, facciamo un applauso. Fatevi sentire. Non vi sento. Vi sto cominciando a sentire bravissimi. Fate pure tutte le foto che volete, che tra un po' si comincia. Finché non vi sento, fate male la piazza. Su! Fatevi sentire. Stanno intonando un corretto. Stanno intonando un corretto di Mofalcone. Signori e signori, grazie al coro delle spose non scartate, purtroppo, per quest'anno. Ma vorremmo far dire due parole alla nostra ospite d'onore, la madrina di questo carnevale. Quindi, mi raccomando, fatevi sentire anche per lei che giustamente dove, quando vi capita più bene. Ah, io ho messo un capitano, ma va bene, ti posso perdonare. No, mi sembra un Johnny Deppi. Pirati di Drive. Esatto. Jack Sparrow, se non sbaglio. Ciao ragazzi! Ciao Falcole! Ciao a tutti! Siete tantissimi! E' veramente splendida, una atmosfera più che meravigliosa. E' qui il carnevale molto sentito, di St. Parenina. E' un evento veramente grosso. E' cominciato dal 1835, se non parlo. Sì, siamo al 135esima edizione, quindi veramente tantissimi anni. Ma il sposo è sempre lo stesso. Il sposo è sempre lo stesso, da 255 anni. Questa magia. Esatto. Ogni anno esce da quel momento. Esce, ma... E si mantiene benissimo, tra l'altro. Ma solo un po' più un po' conoscenze queste cose. Si mantiene benissimo. Però ho capito che ha cambiato tante moglie allora in questi anni. Ne cambia una ogni anno, però devo dire che sceglie sempre bene, ma chissà che magari il prossimo anno non sceglie a te, chi lo sa. Ma io devo svelare un segretto, perché il signorino partirà presto per il Giamaica. Perciò credo che l'anno prossimo, non so se lo vedremo. Ah, non lo sapevo. Andiamo a sostituirlo. E allora magari mi posso proporre io anche se ho tutt'altro stile. Non si sa mai. Assolutamente sì. Io ci sto. La ringrazio. Tu ci starai. Perfetto. Grazie mille. Sono contento di averti qui. Qui siamo onorati perché è la prima volta che abbiamo un personaggio del genere qui a Monfalcone. Quindi spero che ti godrai questa sfilata perché devi sapere che sono tantissimi cari. Mi sono già potuta, guarda. Mi hanno fatto tutto. Hai già visto. Allora hai fatto il giro con la carrozza, quindi hai già visto un po' quello che sarà il Carnevale. Ho fatto una mia menzione dei sposi, sicuramente domani dico il seriano, però come i nostri tempi di oggi è più che normale. L'ho fatta un applauso? L'ho fatta una cosa alla nostra madrina d'eccezione? Non è che ho detto una cosa bella dove si succede. Ah bene. Però io ci credo ancora di matrimonio. Il prossimo anno farei la cosa. Ma se sperai in Giovanni, per favore. Vedremo il prossimo anno. Tutto può essere nella vita, caranina. Chi lo sa? Oddio, vabbè. Tutto può essere, ma alcune cose voglio evitare. Hai ragione. Hai finalmente ragione, quindi io ti devo dare ragione. Ma io intanto ti farei accomodare sulla tua poltrona, nella tua location. Guarda, mi sa che per un'ora e mezza ero seguito. Ok, allora come vuoi? Come tu? La mia poltrona... Venga qua, dai, ti parti per il Giammarca, dai, ultima volta. Sei il re di questo carnevale, va. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ah, ecco qua. Non hai più età. Hai un'età giusta per partire per Giammarca. In Giammarca. In Giammarca. In Giammarca. Si vedremo, chissà, magari come sposa del signor Andoletto. Ciao, Lugelle. Fate un applauso alla nostra ospita d'onore, alla nostra Nina Morris. Ciao, ragazzi. Tutti per voi. Ciao, Cespar. Ciao, Nina. Ciao. 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 Bene, allora, adesso andiamo. Bene, adesso andiamo invece con le brasiliane. Eccole qua. Vai con le brasiliane. Saluto i gilet gialli sempre. Non quelli di Macron, ma quelli di Mopalcon. Presidente di Mopalcon. Rarissime. Fatevi sentire anche tra le maderine. Mi raccomando, signori e signori. Fate un grossissimo applauso. Subito dopo di nome da Fanta Ferry, Paolo, Dries, guardate quanto sono belli e quanto sono bravi. Fatevi sentire. Questa occidentale è stata la Tessera di Mopalcon. Il Vino di Mopalcon. Noi, non fighting. Questa occidentale è stata la Tessera. un peccone io non mi stretto da queste ballerine, fatevi sentire i maschietti che vedo presi i maschietti non riescono neanche adattati a unire, tanto sono presi nel filmare, nel fotografare queste ballerine meravigliose direttamente del Brasile ed eccolo qua Daniele attento alle brasiliane Grazie a tutti 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 Ciao Roby Ciao 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 Saluto la grande Millit Il segno della Vergine di Gorizia Ciao Oggi siamo più vicino Parvederlo E dove sei? Non fai con niente Puro sangue Puro sangue Va bene Ciao Di che signor sei? Pesce Vi metti tu sulla peste Ciao bella Ciao Salutiamo la bella di Mo Falcone, da lunedì andiamo a vivere tutti lì, Bertiolo, no, ho sbagliato, non è Bertiolo, scusate, ma Morsano, adesso intervisteremo il presidente. Ah, sei il presidente di Mo Falcone? Sì, no, di Morsano, bellissima giornata, il pubblico è generoso, quindi di conseguenza più bene di così non posso essere, perché effettivamente il carnevale è per i bambini e per gli adulti. Questa è la ben bella cosa che ci possa essere in questo momento, con questa bella luce. Benissimo, grazie mille, ciao. Come ti chiami? Toda, lui, gli smascheri. Ciao, ciao. E qua andiamo dalle tre dolcezze del Bangladesh. Questo qui è il piccolino suo, eh? Di questo? Buonissimo. Sua? Che grande mamma. Mamma ce l'ha. Ah, che grande l'ha. Benissimo, come si chiama questo piccolino? Eh, Mopat Kari. Di dove sei? Bangladesh. Bangladesh, benissimo. Tutti i Bangladesh. Anche tu? Sì, insieme, tutti insieme. Tutti là. Tutti sì. Ciao. Ciao, ciao, anche te, ciao. Ciao, ciao. Ma guardate che pienone stratosferico che era quest'anno. Tu mai visto il carnevale di Gorizia? E quello di Mopalcone? Quello di Mopalcone ogni anno, non manco mai. Ma è bellissimo? È bellissimo. Benissimo. Fanno festa proprio qui a Gorizia. Insomma, hai visto che bene che è vestita lei? Hai visto la Susanna. La Susanna? Di che signore è la Susanna? Sanitario. Sanitario. La mia figlia? Bene, si sposa quest'anno. La mia figlia si sposa. La mia figlia. Io piacevole la Vergine, Robi. Noi abbiamo tanto amore e pochi soldi. Perché era Gio. Ciao. Mimì. Mimì. Ehi, ciao, scura, sono ce l'ho parlato. Giù. Giù ciè è la sua. Giù ciè è la sua. Giù ciè è la sua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 attenzione che stanno arrivando i modelli, attenzione, donne guardateli qua, guardate lo stile, eccoli qua, quelli che vediamo ogni anno, attenzione, tutti che ci vogliono fare le fotografie, eccoli, salutiamo, guardate che roba, e chi li ferma più, guardate lo stile, che alto a parte tutto, guardate che roba, attenzione, il lato B, donne, lato B, e guarda che quest'anno veramente tanti, guarda questo, guardate che bacio che vi da donne, guardate che roba, guardate la camminata strategica, camminata strategica, attenzione, guardate questo che stile, guardate qua, guardate qua, guardate, camminata speciale questo, hanno fatto un successo tremendo questi, veramente, care donne, guardate qua, niente, guardate le donne cosa vogliono, attenzione, vogliono il lato B, filmano il lato B le donne, impressionante ragazzi, e le donne, il lato B dell'uomo è la cosa più importante, guardate, guardate l'altezza, salutiamo, ballate, attenzione che adesso vedremo come che cammina, care donne, vai, ecco lo stile, guardate lo stile, camminata strategica ragazzi, e vai con l'isio, bellissimi, veramente tantissimi uomini, tutti di donne, vogliono tutti diventare donne adesso, bene, allora adesso andiamo avanti e facciamo una bella carriera, e lasciamo avare, lasciamo il, un altro gruppo, che è il numero uno sei, il migliore, ciao come cammina no? qua e lì? eh, insomma, non mi piacciono tanto da me come cammina no? qua bene? 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 qua bene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il mental detector. No suona, no suona. No suona. No suona, 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 no suona, no suona. No suona, no suona, no suona. No suona, no suona. No suona, no suona. No suona, no suona. No suona, no suona, no suona. No suona, no suona. No suona, no suona, no suona. No suona, no suona, no suona. No suona, no suona, no suona, no suona, no suona. Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Oh no Alla prossima Ciao Basta Grandi personage Bell Oh no 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. 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 speciale. a tutti. a tutti. a tutti. e... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e... 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 e...